Le informazioni da insider di Bloomberg si sono rivelate veritiere, infatti nella giornata di ieri sono stati approvati sia i Bitcoin ETF sia gli Ethereum ETF sulla borsa di Hong Kong. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon martedì mattino a tutti e come ho detto anche nell'intro ragazzi, finalmente sono stati approvati sulla borsa di Hong Kong i Bitcoin e gli Ethereum ETF. e andremo a cercare di capire come potrebbero impattare il mercato questi ultimi strumenti ovviamente lanciati su una delle borse più importanti in Asia. Inoltre ragazzi andremo a vedere le ultime news relative al mercato crypto, andremo a vedere cosa sta succedendo e soprattutto andremo a vedere come potrebbe comportarsi Bitcoin e a cascata tutto il resto del mercato delle criptolute, dato che manca pochissimo anche all'albing. Prima però di andare a vedere tutto nei dettagli vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Perfetto, non perdiamo il tempo, passiamo con la visuale a PC. Partiamo però immediatamente con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante la giornata di oggi. Abbiamo il PIL per quanto riguarda l'economia cinese che abbiamo un forecast, ovvero un dato che si aspetta al mercato di un 4,8% e un dato precedente di un 5,2%. Praticamente il mercato si aspetta come su base annuale il PIL cinese vada frenandosi. Comunque sia, alle 19.15 parlerà anche il presidente della Federal Reserve, ovvero Jerome Powell e ci farà un po' capire che mire di politiche monetarie attuerà appunto la Federal Reserve per quanto riguarda la prossima sessione dell'FOMC. Passiamo con la news bomba, infatti a Hong Kong vengono approvati nella giornata di ieri gli ETF cripto. Si partirà con Bitcoin ed Ethereum. Almeno tre diversi gestori di prodotti finanziari di Hong Kong hanno ricevuto l'ok per la commercializzazione di ETF su Bitcoin ed Ethereum. Infatti ad aver comunicato di aver ricevuto l'ok sono China Asset Management, che è uno dei principali gestori di asset della Cina e che ha ricevuto l'ok tramite la sua filiale di Hong Kong, Harvest Global Investment e Bosera Asset Management. Anche qui stiamo parlando di una filiale cinese, di un popolare gestore di fondi. Allora ragazzi, c'è bene da contestualizzare che ovviamente questi strumenti lanciati sulla borsa di Hong Kong non hanno niente a che vedere con volumi generati e soprattutto con potenzialità rispetto a quelli degli USA. Infatti sappiamo benissimo che le borse più importanti sono le borse americane, sia a livello di volumi sia a livello di importanza eccetera eccetera. Di conseguenza non è che faccia un'enorme differenza, però delle mie zone si dice tutto fa brodo, nel senso che tendenzialmente è una cosa positiva perché potrebbe attrarre investitori in zona asiatica. Pare niente a che vedere con gli investitori cinesi, infatti sarà molto difficoltoso e non sembra sia possibile ancora per gli investitori cinesi investire in queste tipologie di strumenti, dato che appunto sono stati sulla borsa di Hong Kong e non automaticamente saranno facilmente tradabili appunto per quanto riguarda gli investitori cinesi, però comunque sia apre un mercato molto interessante per quanto riguarda il comparto asiatico del mondo. Infatti un dato di fatto, effettivamente come riporta anche Eric Valciunas che ricordo che è un senior ETF analyst presso Bloomberg, ha evidenziato il fatto che appunto gli US Spot Bitcoin ETF hanno più asset in gestione a livello appunto di AUM rispetto all'intero Hong Kong ETF market. Ciò vuol dire ovviamente sì è un'ottima notizia, come vi dicevo prima, più borsi approvano, più entità ovviamente mettono a mercato queste tipologie di strumenti e ovviamente più interesse si avrà in Bitcoin anche dal punto di vista tradizionale. Il problema, che poi in realtà non è un problema ma è un dato di fatto, è che l'intero ETF market della borsa di Hong Kong non raggiunge nemmeno quello che viene attualmente amministrato dai Bitcoin ETF in zona americana. Comunque è un'ottima notizia, la più grande banca federale tedesca, che non mi azzardo minimamente a pronunciarla perché sicuramente sbaglierei 15 vocaboli su 17, offrirà servizi di custodia cripto. Il servizio partirà dalla seconda metà dell'anno e sarà offerto in collaborazione con Bitpanda. O meglio, questo è quanto riportato da Blungerg. Stiamo vedendo sempre più istituzioni che vogliono avere a che fare con il mercato cripto, offrire dei servizi di custodia, di trading e di qualsiasi altra natura per i propri clienti, il che non è assolutamente un male. Oggi non abbiamo soltanto buone notizie, infatti pare che la Norvegia abbia dichiarato guerra, non guerra proprio fisica, però comunque sia una guerra a Bitcoin. In che senso? Infatti pare che vogliono stoppare in qualche modo il mining. Infatti il governo norvegese vorrebbe di fatto bandire le operazioni di mining Bitcoin in Norvegia. L'idea sarà quella di imporre una registrazione a tutti i data center che dovranno inoltre designare un responsabile e indicare chiaramente la tipologia dei dati trattati e delle operazioni ovviamente effettuate. Infatti l'obiettivo è chiaro, dato che viene esplicitato anche da uno dei due ministri coinvolti nel tentativo di normare il settore, decidere cosa potrà essere fatto in Norvegia e cosa invece dovrà spostarsi altrove. E purtroppo pare che da queste prime documentazioni, da queste prime dichiarazioni, il gruppo di quelli che dovranno andare via sarà quello del Bitcoin mining o del mining di cripto in generale, come dicono loro. Diciamo che non si sa per quale motivo si sono accaniti così fortemente contro il mining di Bitcoin e soprattutto con Bitcoin stesso. Comunque il dato di fatto è questo. Ovviamente stiamo ancora parlando di norme che devono essere applicate, però comunque sappiate che c'è questa possibilità. Volevo farvi notare una cosa molto interessante, un grafico che prende in considerazione l'inventory, ciò vuol dire le scorte dei BTC detenuti in questo caso dai maggiori miners quotati in borsa. Ovviamente stiamo parlando di Bitcoin miners, come per esempio Marathon Digital. Vediamo come sistematicamente quando accumulano poi tendono a distribuire, ok? Perché ovviamente il loro core business è quello di andare a minare Bitcoin per poi ovviamente distribuirlo al mercato per andare a ripagare costi, elettricità personale, leasing magari se hanno delle apparecchiature magari acquistate errate, eccetera, eccetera, ok? Il fatto qual è? È che sembra che attualmente grosse entità come per esempio Marathon Digital stiano aspettando l'albing o comunque sia un evento che faccia crescere Bitcoin a livello di prezzo per poi damparle al mercato. Quindi ragazzi, attenzione a questa situazione. Prima di passare nel vivo di questo video, andare a vedere come si stanno comportando i grafici, eccetera, eccetera, vi ricordo che per pochissimi giorni, tra oggi e domani, c'è ancora la possibilità di ottenere per pochissimi posti, dato che è una promo a posti limitati, di ottenere appunto 100 USDT più 100 USDT di fidgetrading. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Sappiate che appunto che se depositate 50 USDT avete la possibilità di ricevere 50 USDT, quindi praticamente un bonus sul deposito. Avete un trading bonus sul mercato dello spot se fate un importo di trading su 3000 USDT e anche qui avete un bonus esclusivo di 50 USDT. Inoltre avete un 100% di cashback sulle commissioni futures entro il periodo della campagna, ok? Tutti i link qui sotto in descrizione. Perfetto ragazzi, partiamo con il vedere come si sta comportando il mercato. Vediamo come nell'ultime 24 ore tendenzialmente stiamo continuando ad andare verso le basse. Infatti abbiamo quasi tutte le altcoin che sono in rossa, a parte qualcuno, ovvero OKB che è il token di OKEX, più un 12,5%, Core un più 60,5%. Ma in linea generale vedete quanto siamo in rosso. Addirittura abbiamo Solana che perde un meno 10%, Ondo un meno 9%. Comunque in linea generale abbiamo delle cifre importanti di perdita. L'abbiamo anche appunto su Bitcoin ed Ethereum. Infatti Bitcoin perde un 3,83%, assestando il prezzo a sotto 63.000. Infatti abbiamo 62.470 dollari. Abbiamo Ethereum che perde un 3,21%. rimane leggermente sopra la soglia psicologica dei 3.000 dollari. Comunque la situazione è abbastanza particolare, ok? Diciamola così. Questo crollo che stiamo vedendo negli ultimi tempi, che ha portato ovviamente il prezzo dai massimo di 73.500 dollari fino al prezzo di ora che andremo a contestualizzare a breve a 62.500 dollari, anzi abbiamo toccato anche cifre su alcuni exchange al di sotto dei 60.000 dollari per qualche momento, è servito anche per ristabilire, diciamo, un equilibrio per quanto riguarda il Crypto Fiery Grid Index. Attualmente ci troviamo a un dato di 65, ma come potete vedere, per esempio, la scorsa settimana eravamo a 80, ok? Quindi abbiamo perso 15 punti percentuali, cioè vuol dire che il sentiment del mercato non è più estremamente in euforia. Infatti vediamo come abbiamo toccato addirittura il 5 marzo un Crypto Fiery Grid Index di 90. Quindi tendenzialmente queste fasi qui in cui ristabiliamo l'ordine, che sia ovviamente troppo esteso verso il ribasso, cioè vuol dire di estrema paura o comunque sia estrema avidità, servono, diciamo che tutto il male non viene per nuoscere, ok? Comunque passiamo a vedere come si sta comportando Bitcoin. Avevamo visto questo triangolo simmetrico dove aveva fatto questa rottura verso rialzo per poi riassorbire tutto verso il ribasso. Effettivamente, se dobbiamo prendere in considerazione il grafico daily, vediamo come tendenzialmente è palese che abbiamo rotto questo triangolo verso il ribasso. Ora, come vi dicevo anche negli scorsi video, va benissimo tutto, l'abbiamo rotto verso il ribasso, ci sono stati vari avvenimenti, varie cause che ovviamente hanno spinto il prezzo a comportarsi in un certo modo, ok? Ma soprattutto l'importante è reggere i 61.800 dollari. Non smetterò mai di ripeterlo perché è l'ultimo minimo toccato tra il 19 e il 20 marzo 2024, ok? Qualora dovessimo perdere questa zona, purtroppo, come vi dicevo, se prendiamo in considerazione anche sull'ultimo time frame, vediamo come a livello volumetrico, cioè, in questa zona non c'è nulla. Cioè, vedete quanto abbiamo, sì, un'intensità volumetrica proprio in questa zona, poiché qui abbiamo una price action molto ben definita che oscilla praticamente in range dai 61.8 fino al massimo dei 73.3, più o meno, ok? Il fatto è che, appunto, perdessimo questa fase di range, purtroppo, la distribuzione di Bitcoin potrebbe arrivare benissimo nella prima zona di incontro verso i 52.400 dollari, che poi sì, abbiamo un interesse volumetrico, ma non chissà quanto forte rispetto magari ai 43.684 dollari, che più o meno, a seconda di come settiamo il grafico, abbiamo anche il POC, ok? Ovvero il point of control del volume profile. Ora non sto dicendo che arriviamo direttamente ai 42.000 dollari, soltanto vi metto in allerta del fatto che l'importante è non perdere questa zona, ok? Nella giornata di oggi, qualora arrivassimo a prendere anche la liquidità qui sotto, vedete, in zona 60.500 dollari, valuto, se vedo nei time frame minori, una spinta verso rialzo, una reazione verso rialzo, ma soprattutto con dei volumi abbastanza importanti, valuto una posizione long. Posizione long fino a dove? Almeno fino ai 62.400 dollari, ok? Ovviamente stiamo parlando di posizioni di breve termine, staremo a vedere un po' come si comporta e soprattutto se si presenterà l'occasione di entrare al mercato. Comunque prendiamo in considerazione l'aggregated open interest, che ovviamente è sempre verso il ribasso, ok? A partire da pochissimi giorni fa, ovvero il 12 aprile 2024, abbiamo perso più di 4 miliardi di aggregated open interest. Vediamo però come i funding rate, per la seconda volta in una settimana praticamente, per un piccolissimo lasso di tempo, li siamo switchati verso il negativo, ok? Questo significa che tendenzialmente avevamo per quel piccolo lasso di tempo più operatori in leva che andavano short piuttosto che long, ok? E infatti di conseguenza i funding rate si adattano in base alla domanda di operazioni short o long di conseguenza, ok? È interessante vedere come in un momento molto vicino all'albing si possa invertire, dato che ormai da diverso tempo, come potete vedere, non avevamo dei funding rate che switchavano in negativo. Praticamente abbiamo una colonna di funding rate super positivi ormai a partire da diversi mesi. Prendiamo in considerazione la liquidation hit map, è molto particolare questa situazione, perché vediamo come abbiamo preso con tutto questo dump qui, tutte le zone di liquidazione che potevamo prendere, ok? Sì, abbiamo qualche piccolissima zona di possibile liquidazione in 62.070 dollari, l'abbiamo a 61.400 alti 392 milioni, ma vedete come la zona più importante ovviamente rimane quella dei 71.700 dollari, con un liquidation leverage di circa 3 miliardi di dollari, soltanto a quel livello. Poi ovviamente se ci spostiamo un pochino più in basso o un pochino più alto, abbiamo più o meno un equivalente di circa 6-7 miliardi di dollari di liquidazione. Quindi ragazzi fate moltissima attenzione perché solitamente, non vi dico che andremo a prenderla breve, però solitamente qualora dovesse rimbalzare e dovessimo trovare una reazione al di sotto di queste zone, potremmo vedere un bitcoin che cerca di andare a prendere le zone che hanno innescato praticamente questo sell-off degli ultimi giorni. Come possiamo vedere purtroppo nelle ultime due sessioni degli scambi dei bitcoin etf non abbiamo avuto supporto per quanto riguarda questi ultimi strumenti. Infatti vediamo come sia nella sessione di venerdì sia nella sessione di ieri purtroppo abbiamo delle giornate negative. Infatti nella giornata di ieri abbiamo avuto un meno 559 bitcoin che sono stati distribuiti al mercato, di cui 1680 sono stati distribuiti dal Grayscale Bitcoin Trust e Libit invece ne ha assorbiti soltanto 1120 dollari. Passiamo con Ethereum ma che poi in realtà riflette anche il comportamento della maggior parte dell'alcoin o almeno quelle più capitalizzate. Vediamo come la struttura è leggermente diversa rispetto a quella di bitcoin ed è leggermente peggio rispetto a quella di bitcoin perché come vi ho detto anche nella sessione di ieri vi dicevo ragazzi qui siamo ancora in range perché infatti il minimo del 20 marzo di questo drop qui non l'abbiamo ancora violato. Effettivamente, o ci manca poco comunque, almeno nel momento in cui sto registrando, comunque invece per quanto riguarda Ethereum invece l'abbiamo violato, abbiamo addirittura avuto un bounce che è servito per ritestare questa zona qui e adesso sembra che con la negatività di oggi stiamo andando verso il ribasso. Non è uno scenario bello, comunque sia. Si potrebbe ancora confermare come una bull flag? Sì, ma siamo lì per romperlo. Infatti, qualora dovessimo rompere effettivamente con una chiusura daily al di sotto dei 3.000 dollari, effettivamente verso anche 2.950 dollari circa, purtroppo anche qui potremmo vederci fiondare direttamente verso i 2.700 dollari, 2.630 dollari, perché anche qui effettivamente non abbiamo zone che almeno a livello storico potrebbero fungerci da supporto. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per chi volesse usufruire ancora per pochissimo tempo della nuova campagna di BitGet, ancora pochi post disponibili. Se non l'avessi ancora fatto, chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Per iscritti invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!